Questa è la pulizia mensile che va effettuata sulla F2000 Allora, torniamo sempre sul menu manutenzione Andiamo a selezionare pulizia attorno testa Per entrare freccia destra Clicchiamo su sì, in questo caso il platene è già indietreggiato E andiamo su sì Mettiamo un pezzetto di carta per evitare sgocciolamenti La testina si è posizionata al centro Per cui a quel punto là Prendiamo un po' di liquido Del nostro kit Mantenas Che è praticamente il Mantenas kit Che è lo stesso che utilizziamo anche per la pulizia settimanale In questo caso utilizziamo solo la spatolina più larga E andiamo a pulire la testina sul perimetro Per cui ci posizioniamo su tutti e quattro i latti Pulendo perfettamente la zona Ovviamente la zona sottostante non va toccata Perché la pulisce il kit L'unità nastro Poi andiamo a pulire le plastiche che sono attorno Compresa questa zona qua Se sono presenti dei pelucchi Nei latti della testina Possiamo utilizzare Le pinzette In plastica Che sono in dotazione Per cui si posizionano Praticamente sul pelucco E si va a tirare eventuali pelucchi Rimuovendoli in modo che evitino Di sporcare le t-shirt A questo punto La manutenzione è terminata Abbassiamo il coperchio Premiamo ok E la testina torna in posizione Questa qui è la manutenzione Che va effettuata mensilmente